Pronti? Partenza? Via! E benvenuti alla ripartenza del Noi Con voi Tour. Noi Con voi Tour con gli amici di Vacanze Landia. Occasioni di incontro e di confronto e di condivisione della passione che abbiamo per i viaggi in camper caravan e tenda. Esatto. Riparte dalla tappa 4 perché si era interrotto l'anno scorso nell'ottobre del 2020 con la tappa 3 e da quest'anno si riparte dal 4. No, dal 4 poi andiamo avanti di continuo. Sarà un evento itinerante a tappe senza scadenza. Esatto. E gireremo tutta l'Italia, isole comprese. Tutta l'Italia e sceglieremo strutture che possono ospitare camper, caravan e tenda perché per noi le vacanze dall'aperta sono di tutti indipendentemente dal tipo di attrezzatura che uno possiede. Ma non regaliamo niente a questo Noi Con voi Tour? No, no, regaliamo, regaliamo. Facciamo la magia! Abracadabra simsalabim! Ecco i regali che troverete in occasione delle nostre tappe. Parto io? Parti te, parti te! Ok, adesivi antidepressivi andati a ruba in occasione delle fiere e saranno... E delle precedenti Noi Con voi Tour. Quindi per canter, per tenda, no scusate per tenda e per caravan, mi sono confusa. Esatto. Poi ci saranno tutte le occasioni di incontro Noi Con voi Tour, ci sarà un brindisi che faremo tutti insieme organizzato da noi con prosecco e qualche cosa da mangiare. Qualche stuzzicchino. Un brindisi che di solito viene effettuato alle ore 18 o 19 o dipende dall'estate ed inverno, comunque nel sabato pomeriggio, tardo pomeriggio. Esatto. Poi regaleremo un libro inedito che non trovate attualmente in nessuna rivendita, non cercatelo in libreria, non cercatelo su... Non c'è nessuna parte, si riceve solo venendo a Noi Con voi Tour ed è il libro... Vacanze in Andia senza veli. Un libro, una nostra autobiografia ignorante. Ignorante, esatto. Molto autoironica dove raccontiamo della nostra vita, delle nostre scelte fatte a livello lavorativo e come siamo diventati travel blogger. Sì, delle nostre esperienze, aneddoti particolari, delle cose che fanno anche ridere... Serie anche. Serie che fanno ridere e che ci sono accadute durante, diciamo, le nostre esperienze. Un libro semiserio per raccontarvi dieci anni da blogger e cinquant'anni da viaggiatore e campeggiatori. Solo in regalo venendo a Noi Con voi Tour. Cioè con cinquant'anni da viaggiatore campeggiatore non possiamo più dire che siamo giovanissime. No, no. Siamo diversamente giovani. Esatto. E poi la reta? E poi abbiamo una goodie bag. La goodie bag è una, si può dire, una cartella, una borsa virtuale dove al qualche interno ci sono sconti e egevolazioni per chi è partecipato alle varie tappe dei Noi Con voi Tour. Saranno sconti, convenzioni e naturalmente di cose interessanti che fanno parte della vita dell'area aperta e non anche. Esatto, esatto. Siamo molto aperti di idee, no? Quindi chi verrà, gli verrà dato un link dove potrà accedere a questa goodie bag e stamparsi i conti. Un'area riservata soltanto dedicata a chi ha partecipato ad almeno una tappa del mondo. Ad almeno una tappa, esatto. Quindi, ricapitolando, evento itinerante a tappe senza scadenza, chiamato Noi Con voi Tour. E questa foto la trovate anche comunque sul nostro camper, eh? Esatto. Quindi seguite la pagina Facebook Vacanze d'Andia e il nostro sito internet www.vacanzandia.com scrivendoci alla newsletter oppure guardando sicuramente il nostro sito in modo da poter vedere le tappe che noi organizzeremo itineranti. E restare aggiornati. Comunque ci trovate sempre disponibili su WhatsApp, su Telegram, su Instagram, su YouTube, quindi potete trovare le informazioni dappertutto. Dappertutto. E raggiungeremo tutta l'Italia attraverso di queste tappe che dicevamo prima, che organizzeremo di volta in volta. Quindi non è un calendario già prefissato da oggi, ma sono tappe che andremo a decidere di volta in volta. Quindi restate aggiornati. perché il calendario viene pubblicato mensilmente. Esatto. Allora, non ci resta che salutarvi, invitarvi a... ma non una... potete venire a tutte le tappe. Tutte, tutte. Ci sono delle persone che stanno facendo l'età parafica con noi, quindi per noi è un piacere incontrare. Sempre benvenuti. Chiaramente il libro vi verrà regalato una volta solo, il prosecco no. Il prosecco sarà sempre ben gradito e ben distribuito, con piacere gli amici vacanziali che saranno i nostri ospiti. Sì, poi ogni tappa sarà ricca di... Iniziative. Iniziative. Iniziative, a seconda del luogo in cui verrà fatta, ci saranno iniziative differenti, quindi... Sì, spesso vorremmo fare anche delle tappe dove sarete più liberi perché non vogliamo essere troppo costrittivi nell'organizzazione. altre saranno invece con... guide. Non lo so, andiamo... andiamo avanti. A seconda della località vedremo come fare un bel weekend insieme a voi che, oltre a parlare, casomai anche conosce il territorio e fare altri tipi di attività. E di esperienze. E di esperienze. Bene. Buon noi con voi tour. Un'occasione di incontro con gli amici di Vacanzelandia. E noi vi aspettiamo e siete sempre benvenuti nelle nostre tappe. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao.